e poi e poi si è morto e poi c'è da vipro che l'abbiamo notato perché fa troppo rumore assolto comunque oggi mi sono sciopato sta bellissima skin ma non è bella per tutti però a me mi piace che persona cattiva che sono ragazzi vedetevi di sviluppare il campanellino e di sviluppare di like davide vai a curarmi a terra uno a terra a terra quanto sto attraendo ma non 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 quattro quindi nel cliente ora non so cosa che l'ho fatto cioè in un secondo ha fatto 4 film oh io allora si trova uno scarvo vede no ma solo funzionava no dai! c'è fame! guardalo! ladrinze! mi dai il pompa te lo do! 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 no! non è vero! ma te lo giuro! puoi vedere la pompa? dammi il combat! dammi il combat! non è saldo! lo tiro in ciclini! così con la caratta! dammi il combat! vabbè bro! questo è saldo! andalelo tanto! però ma ancora con la musica! ancora con la musica! no! che infammo! cosa farò che sono andato là? oh mio! tutta mia! no! niente! no! mi spiace! mi spiace! dà bro! dà bro! ti da papa tattico! ti da papa tattico! bravieni! tua madre davide fai schifo tu non cesso sono io credo io mi dice non c'è quando non è riuscito a casa mia l'abbia segnalato su canale l'elite da vipro segnalatelo ricordate perché fai video più bruttali della terra io faccio più di 100 views ma io sono sparando non è bravo non è bravo dovete usci ok e combate ce l'avevano non è bello non è un po' potente mi stai dicendo davide non lo so davide davide? vengalo, non sa più la musica vengalo, vengalo, vengalo un attimo mi stai dicendo davide grazie per il porto se quando la piedo io lui me lo da scusa io l'ho data qua io che lo sto comprendo quindi cosa cosa servia che te lo devo vabbè zitto zitto è tenuto sacco il paese raga segnalatelo è una buona idea ma due anni eh guardate non si può vedere una persona così ok raga raga comunque ricordatevi di iscrivervi al canale fai schifo di iscrivervi al canale condividete il video con tutti i miei amici e di accedere la campanilla e di subito e di like così domani vi porterò un episodio di minecraft ve lo prometto ve lo porterò bello bello e durerà trecci minuti raga ricordatevi di stare sempre online ma io vi aspetto dove ne vi aspetto alle due forse vedo se ci sono dai dai pro ma che infame pro però fai schifo paru 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 ma prima controllo madonna mi spaga gente vassati qua seguitemi seguitemi di lì seguitemi no 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 infatti date vi cerchiano raga forse dov'erro, dove sono? mi vedo ah bravo l'ho visto raga aiuto c'è anche un ragazzo in alto che mi spara mi fate quello che mi aveva non saltato guarda che tu andessi! guarda dove? guarda dove? guarda che li hai visti? guarda che li hai visti? guarda che io scappo io scappo nooo va bene ragazzo ragazzo siamo morti anche da me bro è pure da dietro raga! che nobile! che nobile! smattano! smattano se tua madre è giocola! palla veramente! ciò che hai scoperto il terratto combat? quando li ho freddo io no? ciò amico di me ragazzi ricordatevi di accedere di iscrivervi al canale accendete la campanellina e speriamo di like e godetevi il video ciao! perchè buttarlo via nel cestino proprio perchè se mi fa male il sedere cioè io ti ho dato il combat perchè lui aveva già trovato un po' il nonno blu cioè ma ora ti muovo ancora? e lo fa anche? no! no! lo sento! lo sento! però sento lego! però sento lego! anche voi avete il segno della connessione con la crocetta x rossa! no a me è rossa però mi stanno anche laggando raga! tu hai 10 piedi adesso anche io però io ero 32, 33 30 oh ma mi sento? mi ha buttato ancora come... sto! ti sento! no raga però sta laggando un po' raga sta laggando un pochino ma no a me è zero! ma questa è partita laggando un po' eh anche a te o a te o a te no no! quando spacco le cose! ma no, me lo no! no, me lo no! no, neanche niente! raga ce n'e uno, ce n'e uno, ce n'e uno! aspetta! non ne... non ne... raga vedi me! Ok, con l'accetto giallo adesso Grazie No, stiamo arrivando, i primati c'è un altro defo da te Io come faccio adesso? No, te ho lanciato qualcosa Eccolo, ma che stai avendo? Io! Ma che stai avendo il mondo? Oh, la c'è un copo, ma stai avendo Ma che aiuto? Dove è? Non so se non è qua Non so se sono one hit Si parla che io non posso fare niente Si parla che mi metto one hit Raga, dov'è? È sozzo, forse Sì, sotto, raga È qua È qua, da me, da me Da me Fatto? Raga, mi ha salto su pompa O niente Raga, su pompa Mi serve una cura Eh, bro, non so io Non so se una cura Che, che No, è brutto Va bene, io intanto Non scusate che scusa quella cosa epica Non scusate che scusa quella 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 epica Non scusate che scusa Quante può fare? Non scusate che scusa quella epica Un altro asalto verde Cosa fa? L'altro tranquugi? sta baggando tutto no quando tirate i trangucci no raga a me ne stavano i colpi no raga mi ha preso dopo la cesta ma che scrive fate trangucci lo fate da soli davide 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 ha salto e l'ho la vita c'è tra un giro solo cosa stai facendo al strutturcio il saggio la gira tonda casca al mondo solo voi no ma che mattina ma non sono 100 non sia come li faccio nella casa che mi da un legno e cosa ne ha cose che mi dà un bottiglio di legno a la tua faccia lo so pari quanto pari un ca ma che è che è raga raga sto lagando raga sto lagando a tu ritorni qua c'è rinunciato di andare la faccio molto sicuro che basta un colpo e non muoio faccio uno che non mi fanno dai ti posso far vedere un glitch il telefono via guarda guarda un attimo eh guarda guarda bene se va bene guarda 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 lo faccio prima io faccio prima io guarda qualcuno ha curato qua ho sentito i miei sensori da pochino guarda 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 No, 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 no! Ega, a spittato, ega! Poso prendere, è, ova? Sì, sì, ova! Ega, non passiamo qua, non passiamo qua! Ega, non passiamo qua, non passiamo qua! Egole, egole! Non ho dovuto vedere! Non ho dovuto vedere! Egole! Ma non ho fatto un fail! Ma non ho fatto un fail! Ma non ho fatto un fail! Stiamo arrivando! Stiamo arrivando! Oh, grazie! Ah, ciao! Oh, grazie! Ragazzi, guardate! Ragazzi! Ragazzi! Oh, no! Guarda! Venite! ho fatto in grado il più brutto il mondo raga ricordatevi di scrivere con la cedetta campanellina speriamo di like ciao no raga siete scemi raga modificate modificate non ritrovare a a a a 5 5 non mi fai scelto non mi fai scelto attorno aiuto aiuto hello mi piace bella ora la sera campeando oh ma mi finisce oh no la partita ma che avete visto tutto ragazzi avete visto bene ha detto che aveva un botto vabbè alla prossima Mamma, mamma. raga avete visto che sarà già fatta se non mi laggavo non potevo farmi stare 10 kg la la 10 kg quattro kg l'ho fatto raga 1 kg l'ho fatta come una ho tornato 3 persone ho tornato 3 persone in un altro team certi mi sono fatto 7 kill però non li ho finiti ovviamente sono un bravo uomo non ho sottomai davide io davide non ti ho sottomai giusto davide va bene raga spero che il video vi sia piaciuto qua è tutto lasciate like iscrivetevi al canale